Ben trovati al TG di TV6 dell'Aquila. Iniziamo parlando dell'ufficio ricostruzione del cratere che è a rischio paralisi. Scade oggi infatti il contratto del coordinatore della struttura Paolo Esposito in sella dal 2012. Proroga o sostituzione sono le due alternative ma nel frattempo l'ufficio vivrà una situazione di impasse che dal Ministero a Roma si spera possano sbrogliare al più presto. Ci dice tutto Giorgio Alessandri. Rischio paralisi per l'ufficio per la ricostruzione del cratere all'orizzonte. Scade oggi, 30 novembre infatti, il contratto con cui nel 2012 dall'allora governo Monti fu assegnato l'incarico a Paolo Esposito di origine ambruzzesi e con una lunga esperienza nel campo del giornalismo di coordinatore del cosiddetto USRC, ufficio per la ricostruzione del cratere appunto. Oltre a coordinare i singoli uffici territoriali della ricostruzione, dei comuni del cosiddetto cratere sismico e persino di quelli che in esso non vi sono ricompresi, che sovrintendono i processi di rinascita dei singoli centri storici, l'ufficio speciale guidato da Esposito nel corso degli anni ha acquisito sempre maggior peso, soprattutto dal punto di vista della gestione delle risorse economiche. Processi che, inevitabilmente, andrebbero a bloccarsi qualora non arriva il più presto un provvedimento di proroga del contratto che, però, dal Ministero dovrebbe essere ancora formalizzato. Più difficile, ma non impossibile, la scelta di un funzionario diverso da Esposito che lo andrebbe a sostituire e che avrebbe bisogno di tempi fisiologici per comprendere fino in fondo il funzionamento di una macchina che, dopo oltre tre anni, sembra ormai rodata. In ogni caso, dal primo dicembre scatterà un periodo di vacazio, in virtù della quale la firma sui documenti e i piani di ricostruzione non potrà più essere apposta, a meno che non arrivi una proroga dell'ultimo minuto o, in alternativa, la nomina di un incarico protempore da affidare ad una figura ancora da individuare. In ogni caso, un bel rebus da sciogliere all'interno del Ministero per non rallentare attività e processi che, a quasi sette anni dal sisma, non possono subire ulteriori rallentamenti. E ora parliamo del personale del Comune dell'Aquila, un piano pluriennale per l'ente. C'è stato infatti un incontro tra i sindacati e i dipendenti pubblici del Comune dell'Aquila per definire un percorso condivise, una strategia per definire assetti e priorità del personale degli uffici della ricostruzione e della cosiddetta filiera, fondamentale per la rinascita dei centri storici del capoluogo, ma non solo, anche delle importantissime frazioni dell'Aquila e il servizio. Individuare un percorso per i dipendenti pubblici, alle luce dei recenti cambiamenti che interessano l'intero settore, in una realtà come quella dell'Aquila, dove la fase della ricostruzione della cosiddetta filiera è strettamente legata agli scenari di rinascita dei centri storici. Di questo si è parlato nel corso di una folata assemblea nei giorni scorsi presso l'auditorium di Renzo Piano, nel corso della quale si è tentato di intavolare una strategia, sia per il personale che dovrà essere riassorbito dalle province, sia per quello dei cosiddetti UTR, uffici nodali per la ricostruzione. Sindacati e personale del Comune capoluogo e del cradere a confronto per un piano a lungo termine, come spiega Rita Innocenzi, della CGL Funzione Pubblica. Noi ci siamo lasciati con il tavolo della ricostruzione, quando abbiamo ragionato sull'articolo 11 del decreto antilocale, con tutti gli attori sociali del territorio, ci siamo lasciati con l'impegno di convocare subito un tavolo, sempre incardinato presso la Regione Abruzzo, che discuta del personale della filiera. Io credo che quel tavolo vada immediatamente convocato, perché noi abbiamo a questo punto con la serenità necessaria, il bisogno di affrontare tutto il problema del personale, perché abbiamo persone assunte col concorso RIPAM a tempo indeterminato, che non sono ancora in pianta stabile all'interno del Comune dell'Aquila e degli altri comuni del cradere, degli UTR. A questo personale noi dobbiamo dare una risposta. È interesse o non è interesse del territorio che queste persone che si stanno formando qui all'Aquila, che restino a vivere in questo territorio. Ci sono anche molti aquilani che sono assunti a tempo indeterminato, non possiamo permetterci che nel 2021 vengano disperse queste professionalità. La cronaca ci porta a Scanno. Un 52enne di Scanno è morto ieri in località La Navetta, poco distante dalla base degli impianti sciistici di Monte Rotondo. Cesidio Caranfa, responsabile dell'ufficio anagrafe del Comune di Scanno, è partito con gli sci spalla alle 9.30 e poi non ha più fatto ritorno a casa. Intorno alle 18.30, dopo che per l'intera giornata non aveva risposto al cellulare, il gruppo di escursionisti con il quale andava spesso in montagna ha dato l'allarme dopo averlo atteso in mano al rifugio del campo. Una scuola del Corpo Nazionale Soccorso Alpine Speleologico ed una del Gran Sasso del Soccorso Aspino della Guardia di Finanza, allertate dai carabinieri di Castel di Sangro, lo hanno trovato cadavere tra la neve, probabilmente a stroncarlo un infarto. Sul posto anche Vigili del Fuoco e Forestale, il 52enne lascia una figlia di 22 anni. La vicenda di Banca Etruria fa discutere, persi i risparmi, i cittadini si uniscono in comitato. Sono tantissimi, infatti i risparmiatori, soprattutto nel Comune dell'Aquilano di Pizzoli, che avevano investito i risparmi di una vita in questa banca. L'unica azione è quella civile, secondo Feder Consumatori, e così forse si potranno recuperare dei soldi, ma i tempi sono molto lunghi. Sentite. Una riunione al vetriolo, quella che si è tenuta nei giorni scorsi a Pizzoli, oggetto la Banca Etruria e risparmi degli aquilani andati persi dopo il salvataggio dell'istituto bancario da parte del governo. I risparmiatori aquilani hanno deciso di costituirsi allora in comitato. A Pizzoli, infatti, c'è una delle sedi della banca. L'unica strada da seguire in questi casi è agire civilmente nei confronti della persona giuridica della banca, che sarà dichiarata inadempiente, secondo il legale che si sta occupando della causa. In definitiva, ci saranno buone probabilità di recuperare i soldi, ma i tempi non saranno brevi. Circa 1.500 i abitanti del piccolo comune dell'Aquilano, che sono azionisti della Banca Etruria, tra loro ci sono commercianti, piccoli artigiani, tutti preoccupati per il futuro dei loro risparmi di una vita. Una vicenda che sicuramente avrà risvolti anche nel tessuto economico del comune del comprensorio. I tempi per i risarcimenti, come dicevamo, non saranno brevi. In questa vicenda si sono coinvolti anche Carichieti, Cari Ferrara e Banca Marche. I risparmatori di Carichieti hanno già avviato una class action in tal senso. Oltre a banche Etruria e Pizzoli, lo ricordiamo, all'Aquila c'è anche la filiale di Viale Corrado IV. Banche salvate denunciano i cittadini con i nostri risparmi. Anche la politica locale si sta muovendo con il governo centrale, affinché i soldi dei risparmiatori possano essere in qualche modo recuperati. Il capogruppo di Forza Italia, Guido Liris, chiede l'installazione di telecamere su tutto il territorio del comune dell'Aquila. È anche un censimento della nuova popolazione aquilana. Il comune dell'Aquila, la prefettura, le associazioni di categoria devono creare un unico database composto dai vecchi e dai nuovi aquilani che compongono il sistema sociale post-sisma. Dobbiamo assolutamente, dice Liris, conoscere i nomi e la composizione dei nuclei abitativi di italiani e non italiani che vivono nel nostro territorio comunale. L'esigenza di sicurezza, dice Liris, ancora è sempre più forte, non soltanto a seguito dei tragici eventi internazionali. Siamo di fronte a un'emergenza furti, in particolar modo nelle periferie e nelle frazioni. La popolazione è esasperata e sente lontane le istituzioni a tuo punto da immaginare di organizzare dei sistemi di difesa privata. Le forze di polizia, conclude Liris, sono assolutamente insufficienti per l'esigenza della realtà aquilana. In particolar modo alla luce della nuova distribuzione urbanistica post-sisma. Parliamo ora di sottoservizi. Da oggi ci sono delle modifiche alla viabilità cittadina. Cambiano sensi di marcia a causa dei lavori per alcune strade principali della città dell'Aquila. La zona maggiormente interessata sarà quella di via 20 Settembre. Sentite. Da oggi il traffico cittadino sarà interessato da diverse modifiche. Motivo i lavori di scavo e installazione del tunnel intelligente che riguardano la seconda delle sette sotto-arie in cui è suddiviso il maxi-cantiere di ricostruzione dei nuovi sottoservizi. Lavori che stanno per partire. Il cuore avvia 20 Settembre ma interessate dagli scavi anche altre zone come Viale Francesco Crispi, Corso Federico II, Piazza Duomo, Via dell'Arcive Scovado e Via delle Buone Novelle. Nel frattempo la prima sotto-area è in fase di completamento. Nella prima parte dei lavori sono stati ritrovati i manufatti nel sottosuolo lungo Via Sallustio e dunque i tempi si sono un po' dilatati ma ora si sta procedendo al regime. Da oggi in Via Sallustio e nei pressi del Duomo saranno predisposti anche gli allacci per completare il tunnel e rendere fruibili pienamente le strade già dai primi mesi dell'anno nuovo. Disaggi inevitabili per gli automobilisti ma necessari. La commessa in questione è da circa 80 milioni di euro. 38 nel primo lotto che è in corso e che porterà alla realizzazione della galleria per ispezionare lo stato delle reti nelle vie principali del centro. Tra le decisioni dell'amministrazione comunale per fare spazio al cantiere nella seconda sotto-area rientrano a partire da oggi il restringimento temporaneo della carreggiata e l'istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata per entrambi i lati dell'area interessata ai lavori relativamente al tratto di Via 20 Settembre tra l'incrocio con Via Campodifossa e l'incrocio con Corso Federico II. Inoltre saranno istituiti il senso unico in salita su Via 20 Settembre tra Via delle Buone Novelle e Via Le Francesco Crispi, il divieto di transito ai veicoli con portata superiore alle 3,5 tonnellate in tutte le strade coinvolte, la chiusura temporanea di alcuni tratti di Via Sant'Agostino e Via San Michele, senso unico alternato in Via Cesare Battisti e doppio senso infine in Via San Michele dove ci sarà anche divieto di sosta con rimozione. E ora apriamo la pagina sportiva, una pagina decisamente lieta per l'Aquila Calcio che falcia, scusate, il gioco di parole, il Prato. Una prestazione davvero superba, quella dei rosso-blu di mister Carlo Perrone tra le Muramiche allo stadio Fattori. 2-0, una doppietta di Raffaele Perna, un giocatore l'anno scorso spesso contestato che ora sta vivendo un momento davvero d'oro. Il servizio è di Gianmarco Menga. L'Aquila vola al Fattori, batte 2-0 il Prato e centra il secondo successo interno consecutivo. In più esorcizza la bestia nera Prato contro cui non vinceva da lontano 2011. Una prova di qualità e sostanza per gli uomini di Perrone, puntuali soprattutto in difesa con la piacevole scoperta Cosentini sempre sugli scudi. Cosentini forse è il migliore in campo, i complimenti nuovamente anche di Perrone in Sala Stampa ormai è un punto fermo di questa L'Aquila. Chi se lo aspettava? Neanche io veramente me lo aspettavo. Devo dire grazie in primis al mister, come dico sempre, perché è lui che mi ha trovato questo ruolo e mi sta dando fiducia. Poi vabbè, da solo non faccio niente. Sicuramente la squadra ha giocato bene e mi dà una mano in tutto quello che faccio, soprattutto Maccarone, anche Mancini, i più grandi che mi danno molta fiducia e mi danno anche consigli molto buoni. Nell'undici iniziale Perrone sorprende tutti, niente 4-2-4 ma 3-5-2, il modulo inaugurato nel derby con il Teramo. Dal primo minuto si rivede De Francesco in mediana, in attacco Ceccarelli agisce dietro Perna, preferito a De Sousa che parte inizialmente dalla panchina. L'Aquila inizia bene, tesse le trame di gioco ma senza sbocchi in avanti. Al trentesimo però ecco la prima vera chance. Milicevic imita Ibraivovic, tacco volante a liberare Perna che conclude così in diagonale lambendo il palo. Al tramonto del primo tempo, seconda chance cestinata dai rosso-blu. Manuel Mancini recupera l'ennesimo pallone a metà campo, sponda di Perna, lobba a cercare Ceccarelli che sbaglia il controllo con il Mancino e scivolando cicca di destro sul fondo. L'Aquila però capitalizza la mole di gioco nella ripresa. Salgono i ritmi, Perrone fa entrare prima Piva al rientro dall'infortunio per Ligorio, quindi De Sousa al posto di Ceccarelli. Al cinquantaduesimo grande giocata in un fazzoletto di San Domenico che spara a botta sicura trovando Rossi in angolo. Al sessantaquattresimo l'unica vera occasione per il prato di De Petrillo. Cross dalla sinistra per il colpo di testa del nuovo entrato Gomez che trova i guantoni di Zandrini. Il gol aquilano è nell'aria, minuto 71. Cosentini lancio, telecomandato per San Domenico sulla destra, cross al bacio per Perna che in spaccata fa 1-0. Terzo centro in campionato per la rete napoletano e secondo assist di San Domenico a Perna dopo quello contro il Teramo. La premiata ditta partenopea non ha però concluso lo show. Tre minuti dopo Mancini scodella per San Domenico, di nuovo cross dalla destra e stavolta di petto alla Balotelli Perna fa 2-0 regalandosi la prima doppietta in rosso-blu. Quarto gol in campionato per il 9 Aquilano e pensare che l'anno scorso erano stati solo tre i centri nell'intera stagione. Perna che poi in transagonistica interviene così su Cavagna beccandosi il giallo. Meno sanguinoso però di quello che rimedia Manuel Mancini che diffidato sarà costretto a saltare la gara di Siena in programma venerdì sera. Finisce qui 2-0 e tanti applausi per l'Aquila che gara dopo gara sta sorprendendo anche i più scettici ad inizio campionato. Se si continua così la salvezza potrà arrivare senza Patemi nonostante la penalizzazione futura. A fine gara è raggiante in volto l'artefice principale della rinascita, il tecnico Carlo Perrone. Perrone difficilmente chiedere di più, seconda vittoria consecutiva in casa, grandissima prestazione, tanta qualità in mezzo al campo e poi doppietta di perna. Sì abbiamo fatto finalmente quasi tutto bene, meglio il secondo tempo che non il primo, dove comunque abbiamo creato tanto però abbiamo finalizzato poco. Sono contento perché comunque penso che i ragazzi si meritino questa soddisfazione per l'impegno che stanno mettendo dall'inizio del campionato. Oggi abbiamo fatto veramente una bella partita, abbiamo cercato di giocare, abbiamo creato tanto e abbiamo reso inoffensivo un prato che comunque veniva da tanti buoni risultati. Ecco, tra l'altro una bella nota nel finale, qualche coro dalla tribuna per Carlo Perrone. Non ho nemmeno sentito, ma comunque i tifosi devono incitare sempre e sostenere la maglia, io sono sempre abituato così, i singoli passano sempre, quello che resta è sempre la società e la squadra, quindi è giusto che la gente faccia i cori per l'Aquila a calcio, poi se noi quest'anno riusciremo a fare qualcosa di buono sarà tutto di guadagnato. Con questa notizia di sport termina il TG6 dell'Aquila, grazie per la vostra cortesia e attenzione, rimanete sulla nostra emittente per la consueta programmazione. Arrivederci! Grazie!